Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per incidente, traffico bloccato e 4 km di coda con tendenza all'aumento tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione Roma. Anche in carreggiata opposta si registrano 2 km di coda, anche in questo caso con tendenza all'aumento, tra Chiusi e Monte San Savino. Sempre in A1 coda per traffico tra Barberino e Calenzano per chi viaggia verso Firenze. Prudenza in A12 per vento forte tra Pisa Centro e rallacciamento con l'Aurelia, raccomandiamo particolare attenzione alla guida di mezzi terronati e caravan. Uno sguardo al traffico ferroviario per un intervento delle forze dell'ordine a bordo, il regionale 18 740 Arezzo, Firenze e Santa Maria Novella non è ancora partito. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, attenzione sul viadotto del ponte all'Indiano, probabile presenza di materiale in carreggiata. Muoversi in Toscana Infio, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.